Peccato, ha sbagliato il passaggio l'argentino, il lancio lungo in avanti per l'inserimento di De Sciglio, posizione regolare, De Sciglio la mette in mezzo, Onda e la fa in rete, il vantaggio della Milan al minuto numero 29 con Keisuke Onda, quindi cambia il punteggio al MAPEI Stadium di Reggio Emilia, Milan 1, Juventus a 0, la rete al 29esimo di Onda. E' una bella azione stata con De Sciglio che ha messo il pallone in mezzo dalla sinistra, Onda ha girato la gioia dei piccoli tifosi rossoneri, primo gol del trofeo team 2014 di Onda che ha girato in porta il cross dalla sinistra di De Sciglio. 1-0 per il Milan, gol che ha rotto il ghiaccio con il suo piede prediletto che su Keisuke Onda, adesso la Juventus dovrà cercare di rincorre.